Allora, proveremo ad eseguire la prima parte della forma lunga di 103 movimenti del tachifuano. Allora, proveremo ad eseguire la prima parte della forma lunga di 103 movimenti del tachifuano. Allora, proveremo ad eseguire la prima parte della forma lunga di 103 movimenti del tachifuano. Allora, proveremo ad eseguire la prima parte della forma lunga di 103 movimenti del tachifuano. Allora, proveremo ad eseguire la prima parte della forma lunga di 103 movimenti del tachifuano. Allora, proveremo ad eseguire la prima parte della forma lunga di 103 movimenti del tachifuano. Allora, proveremo ad eseguire la prima parte della forma lunga di 103 movimenti del tachifuano.